Il sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino, condannato per abuso d'ufficio, è stato sospeso per effetto della legge Severino. A siglare il provvedimento che avrà valore per i prossimi 18 mesi è stato il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa. L'atto di sospensione è stato già trasmesso allo stesso Pendolino, alla Giunta Comunale e ai consiglieri di Aragona. Le redini dell'amministrazione comunale sarebbero dovute passare al vicesindaco Nino Contino, ma nella stessa giornata della sentenza di condanna a 5 mesi e 10 giorni emessa dai giudici della prima sezione penale del Tribunale della Città dei Templi, Pendolino ha revocato la carica di vicesindaco. Una revoca che muove dall'esigenza di dare un nuovo assetto politico alla composizione della Giunta, sempre nell'ottica, è stato scritto, di assicurare la massima funzionalità. Contino resterà naturalmente Assessore Comunale di Aragona. Adesso però bisognerà mettere mano allo Statuto Comunale per sapere chi reggerà il Comune.